Volterra Volterra, la città turistica perfetta, con i suoi 3000 anni di storia non ancora completamente scritta, come dimostra la recente scoperta di un enorme anfiteatro romano del I secolo d.C. Adagiata maestosamente su un colle che domina la Val di Cecina, Volterra racchiude emozionanti testimonianze di indecibile bellezza, una vicino all'altra e passeggiando per le strade avverti il senso della storia, dal misterioso popolo etrusco al Medioevo passando per l'epoca romana. Una città da sempre aperta all'eccellenza, che negli ultimi anni ha saputo rinnovarsi con strutture di qualità, dagli alberghi agli agriturismi, dai ristoranti ai numerosi negozi del centro. Situata in posizione geografica strategica, Volterra è la base ideale per tutte le escursioni in Toscana. Situata in posizione geografica strategica, Volterra è la base ideale per l'epoca, molto varia l'offerta turistica, dagli alberghi agli agriturismi turistici. Vediamo cosa abbiamo scelto per voi.